Oggi da questo incontro interessantissimo e molto costruttivo mi porto a casa sicuramente un modo differente di pensare al business futuro, cioè pensare a un qualcosa che possa dare al cliente una visione diversa, una visione che anticipi i suoi bisogni. Molto costruttivo, tanti spunti, anche da un ambiente diverso da cui provengo, quindi assolutamente molto interessante.